Allora Beppe, le sensazioni innanzitutto di questa prima doppietta tra i professionisti? È una felicità immensa, soprattutto perché siamo arrivati in una partita importante dove dovevamo dare una svolta dopo due sconfitte, una partita della ripresa, nel nostro cammino, questa rincorsa verso la miglior posizione possibile, quindi tanta felicità e basta. Come ti trovi di nuovo nella parte avanzata? Quest'anno hai giocato spesso in mediana, adesso ti sei fatto trovare prontissimo per un ruolo che poi comunque non è tanto differente da quello che facevi, è vero? Giocare tra quanti stanno arrivando in mezzo all'azione, così sei più defilato, però il tuo mancino si fa sentire. Giocare davanti mi piace, ho forse più libertà, soprattutto giocando a destra rispetto che a sinistra, mi piace entrarmi e magari vedere il campo, fare qualche assist o tirare in porta. È più divertente per me, però mi piace anche ogni tanto cambiare ruolo o farmi trovare pronto in quelli dove viene richiesta la mia presenza. Prima con vista abbiamo detto che questo spezza ogni volta che cade si rialza più forte, vi sentite così in effetti? Siamo consapevoli di essere un gruppo intelligente, un gruppo forte e un gruppo soprattutto molto unito. L'unione si vede quando si cade, anche malamente direi, perché comunque due sconfitte in quel momento forse possono aver pregiudicato, secondo qualcuno la nostra rincorsa o ci rialziamo come sempre, proviamo adesso a guardare partita per partita cercando di arrivare il più in alto possibile. Poi se prenderemo la posizione che ci spetterà, vorrei dire che ci saremo meritato quella e andremo avanti e faremo quello che dobbiamo fare. Grazie per la visione!